Un saluto a tutti, sono come vedete le 22.33 di venerdì 30 novembre 2012, io sono Stefano Bargiacchi, prof.ste, e vi do il benvenuto a questa nuova versione della videoanalisi settimanale che cambia e si rinnova direi completamente o comunque in modo molto profondo, gli appuntamenti rimarranno quelli del venerdì sera o sabato mattina comunque della fine della settimana con la chiusura appunto dei mercati, ma come vedete la qualità della videoanalisi si è notevolmente incrementata, abbiamo il nostro visual trader con tutti i grafici e il piano di valore lavoro che io utilizzo ogni giorno per fare trading, quindi un pochino di spiegazione almeno in queste primissime puntate della nuova videoanalisi abbiamo i diversi future che appunto io seguo incolonnati con il S&P 500 e Nasdaq mercato americano, poi il mercato europeo, Eurostox e DAX, il Bund è sempre molto importante perché sapete ha una relazione inversa con quelle che sono, o meglio solitamente quelli che sono gli andamenti degli azionari, i time frame sotto quelli orari, quindi una o due ore a seconda, sopra il grafico intraday e quindi rigorosamente NTIC, quindi ancora due ore NTIC, ancora il grafico, in questo caso a un'ora ma comunque orario ed NTIC, il grafico a un'ora NTIC, grafico a un'ora e ancora NTIC, quindi tutto incolonnato. Qui abbiamo i time and sales dove appunto durante la giornata il tape reading si alterna qui con quello dei book e in alto a sinistra e a destra i future che in quel momento seguo un pochino più in particolare, quindi in questo caso il Futsi Mib, l'Eurostox, ma ripeto in quelle due posizioni vado a inserire il future che in quel momento desidero seguire un pochino in modo più approfondito, soprattutto per quanto riguarda l'intraday, quindi di nuovo abbiamo due grafici NTIC, perché ricordo sempre che sotto il time frame orario abbiamo appunto il grafico NTIC. Poi uno schermo interamente dedicato ai market profile, elemento fondante del metodo profste e uno schermo dedicato ai grafici giornalieri con i contratti come vedete in corso, quindi dicembre 2012 in questo caso, parliamo sempre di future e infine un grafico, una schermata con i grafici storici, quindi non c'è più il singolo contratto ma ci sono i grafici appunto storici degli stessi. Spero quindi che come vedete in questo modo riusciremo a dare una visione più ampia, più approfondita e quindi più professionale di quella che è la situazione dei mercati, partendo sempre dai nostri future e partendo sempre in un'ottica settimanale ovviamente dai grafici giornalieri che vedete qua inquadrati. Allora vediamo subito l'Eurostoxx e il DAX perché quello che è successo in questa settimana lo vediamo molto bene, è proseguito sostanzialmente il rialzo, innescatosi con precisione su un test dei minimi di questa congestione che ormai conosciamo molto bene e che in qualche modo fa da riferimento e ha fatto da riferimento anche oggi ancora una volta, lo vedremo molto bene tra un attimo, a quella che è la situazione dei mercati. Perché dico anche oggi? Perché lo vediamo qui, ecco la barra giornaliera che ha rotto al rialzo, questo ripeto, l'Eurostoxx ha testato, o meglio ha testato, perché ha rotto il massimo di ieri, ma ha testato il massimo della congestione che si era formato nel mese di settembre e in particolare nella giornata del 14 settembre. Il test è stato millimetrico perché il massimo del 14 settembre era 2,594, il massimo di oggi 2,592, quindi sicuramente un test esatto. Sono rimasti fuori due tic, quindi per due tic non c'è stato un test esatto e molto spesso sappiamo come il metodo ProfStay dia molta importanza al singolo tic, ai due tic, che apparentemente su Eurostoxx e su Bund, perché dotati di una liquidità che gli altri purtroppo non hanno, danno segnali molto molto importanti. Allora, e di nuovo quasi come è avvenuto appunto qua sotto, quando c'era stato un test dei minimi, meno preciso, ma comunque che ha innescato lo swing rialzista, nella giornata di appunto oggi, venerdì 30, quello che è successo è che c'è stato un test millimetrico dei massimi della stessa congestione che quindi dovremo continuare a tenere d'occhio. E da qui il primo tema della settimana avventura è proprio quello e delle prossime sedute di vedere se partirà uno swing ribassista che riporterà il mercato sui minimi di questa congestione oppure se ci sarà una rottura dei massimi appunto di settembre che abbiamo oggi testato con una precisione davvero impressionante. E guardate quello che è avvenuto sul DAX, il test dei massimi di settembre non è avvenuto perché il DAX è rimasto un pochino più indietro, ma anche lui si è portato sostanzialmente sui massimi di questa stessa congestione, dopo che invece i minimi erano stati rotti al ribasso e poi, lo ricordiamo, era stato riportato all'interno della stessa dall'Eurostox e dalla divergenza ben segnalata dall'Eurostox. Il Fuzzimib rimane come sempre un pochino più indietro al mercato italiano rispetto agli altri indici, quindi quel momento lo lasciamo un pochino da parte, siamo ancora cioè molto lontani, lo vediamo dai massimi di settembre perché DAX e Stox in pratica si trovano in questa zona, il Fib purtroppo continua a sottoperformare, ma volevo soffermarmi su un altro dato e questa è un'altra novità della nostra nuova videoanalisi, il fatto di poter avere dei livelli precisi, perché? Perché quello che è avvenuto oggi è stato che sì c'è stato un test dei massimi della congestione che appunto vediamo sull'Eurostox, ma poi dopo aver rotto al rialzo i massimi di ieri c'è stato un rientro all'interno degli stessi e questo non è un buon segnale perché chiaramente potrebbe aver negato la positività sicuramente di oggi, ma anche diciamo un po' di tutte queste ultime sedute, perché se di vera positività si fosse trattata potremmo aver rotto con sicuramente decisione il massimo appunto indicato prima, il massimo di settembre che poi è quello della congestione, poi non solo quindi il test dello stesso massimo ma un rientro all'interno dei massimi di ieri che potrebbe, ed è questa ripeto la prima tematica da seguire, innescare lo swing ribassista che riporterebbe il mercato verso i minimi più volte testati, di questa che è ormai la congestione chiave che ci serve assolutamente per giudicare quello che sta avvenendo. Anche il DAX, anche se di pochissimo, ha chiuso la giornata al di sotto del massimo di ieri che prima aveva superato, guardate il massimo di ieri era a 74,17, la chiusura di oggi avvenuta a 74,17, il massimo di ieri a 74,18,5, quindi per pochissimi tic, per tre tic il DAX ha comunque chiuso al di sotto del massimo di ieri, in questo modo essendo concorda col discorso Eurostox. A questo punto andiamo a vedere di corsa quello che è accaduto sul mercato americano, è proseguita la positività anche se lo vediamo, c'era stata una prevalente negatività almeno nell'ultimo mesetto 2, ovvero a partire da settembre laddove vedete il mercato europeo, in particolare Eurostox, si è mosso in laterale, lo sappiamo, il mercato americano si è mosso più verso il basso, ecco la congestione iniziata in settembre che in Europa è proseguita e che invece negli Stati Uniti ha portato con una rottura di basso della stessa i mercati al di sotto della stessa dove, lo vediamo bene, ancora si trovano. Questa è la stessa congestione presente sul Nasdaq. Giusto per avere un'idea andiamo a vedere sui grafici storici, la congestione di cui vi parlo sull'Eurostox è questa qui, che si trova nella parte alta della più ampia congestione, molto frassagliata ma comunque ben identificata, che intrappola i mercati, ormai lo sappiamo dall'agosto del 2011. Quindi se ci sarà eventualmente una rottura al rialzo di questa congestione, che poi è, lo ripeto, questa, quella che sta dai due mesi abbondanti intrappolando il mercato, ecco se ci fosse invece della partenza dello swing ribassista, una rottura della stessa al rialzo, saremmo, essendo nella parte alta, subito a rompere più in generale la congestione che dura dall'agosto del 2011. Quindi siamo veramente ad un punto chiave e, lo ripeto ancora, è molto molto importante vedere se partirà uno swing ribassista da qui, che potrebbe essersi innescato già oggi, venerdì, oppure se si romperà il rialzo, la congestione che dura da settembre e più in generale la congestione che dura dall'agosto del 2011. Come sempre l'Eurostox veramente aiuta moltissimo nel giudicare quello che sta accadendo, perché è il giusto mezzo, come tante volte diciamo, rispetto a quello che accade sui diversi mercati. Stesso discorso sul DAX, in un'ottica prospettica, il DAX è in questa zona, quindi bisognerà vedere se poi anche lui eventualmente romperà il rialzo questa congestione che dura da settembre, laddove quella D più ampia che dura dall'agosto del 2011 è già stata rotta in maniera rialzista più volte, anche se poi c'era stato un rientro e ora ci troviamo in qualche modo nella parte alta della stessa, ma sul DAX la congestione che dura dall'agosto del 2011 è molto molto frastragliata, laddove invece vedete sul FIB è un pochino più identificata, ma è di nuovo questo ci permette di comprendere come il FIB sia un pochino più indietro rispetto agli altri indici europei. Benissimo, detto tutto questo, quindi spero che la nuova versione della videoanalisi vi sia gradita, sicuramente più approfondita, più professionale e ancor più, diciamo così, adatta a quelle che sono le vostre esigenze e le esigenze di chi come noi appunto segue il metodo profse. Ringrazio anche il nuovo sponsor che rende possibile il proseguimento in questa forma sicuramente migliorata della videoanalisi e vi do appuntamento come sempre a settimana prossima, oltre che su Twitter e sul blog, per tutti gli aggiornamenti del caso.